buongiorno vorrei una cartuccia dottor inc colore nero per la stampante ah beh perfetto proprio questa qua ma biglietto divertitevi con dottor inc vi portiamo a teatro marco capretti il 7 dicembre io conosco questo video ma no c'è uno sconto invece di 25 euro pago 15 solo solo per dottor inc la devo fare questo whatsapp lo faccio subito marco capretti al teatro a cartuccia poco dopo segna invece di 25 euro 15 questi al dottor incannaggia la miseria ragazzi il teatro al dottor inc